Yo Non so come dicevamo Serena adesso Quando viaggio stress è il mio secondo nome Non importa quante volte abbia preso l'aereo Ho sempre paura di dimenticarmi il passaporto Di perdere il portafoglio Di lasciare a casa il cellulare E a rimetterci sono le mie povere unghie Ho avuto il vizio di mangiarmi le unghie Fin da quando ero piccola Se sono sotto stress non ho autocontrollo Ecco perché le ho provate tutte Quindi oggi posso consigliarvi 8 gadget o soluzioni antistress Per quando siete in viaggio e non Al primo posto c'è l'attuale fidget cube Un cubetto di plastica con vari pulsanti e bottoni Che potrete premere maniacalmente Di buono a che si nota poco E spesso c'è anche in versione portachiavi Consiste praticamente in un cubo antistress Che su ogni faccia presenta delle cose Che tengono le vostre dita impegnate E in continuo movimento Si continua con lui Si Dai che l'avete capito Forza ma è il trendissimo Fidget spinner Ok premessa so che forse molti di voi Ne hanno abbastanza di fidget spinner Che gli viene lo stress solamente guardarlo Perché l'internet è pieno Di video Su questo cosino qui Anch'io devo dire che Ero un po' scettica Così per il bene della scienza Me ne sono procurato uno E ho capito perché tutti sono così infissa Con questo caso E che non smette mai di girare Lo guarderesti per sempre Vorresti che non si fermassi mai Al terzo posto c'è la sempiterna Palla antistress Non una delle mie preferite Perché ho le mani piccole E spesso mi cade Però questa faccina sorridente Fa molto Watchmen Passiamo poi al libro da colorare Perché sì Esistono i libri da colorare Per gli adulti Questa moda è scoppiata In Italia All'incirca un anno fa E li potete trovare ovunque In negozi Librerie Edicole Eccetera Cos'hanno di bello Questi libri da colorare Ma niente Vi tolgono lo stress Vi tolgono via i pensieri Mentre colorate Come quando eravate piccoli All'asilo E all'elementare Le maestre vi dicevano di colorare La cosa scomoda E che poi vi dovete portare dietro le matite Però se non siete troppo esigenti Con i colori Ci sono anche delle matite Così pocket Molto comodi Da portare Anche in viaggio E allora Vai di mandala Ah In alternativa C'è anche l'app Per colorare E consiglio di usarla Su un tablet Perché poi Se non magari Sul cellulare Con lo schermo piccolo Si vi va via lo stress I pensieri Però perdete la vista Dopo i libri da colorare Sempre rimanendo in tema Di cose che avevo Anche all'asilo C'è la pasta Da modellare Che è fantastica Cioè Dà una soddisfazione Incredibile Perché è un po' più dura Del classico Pongo Insomma Delle cose Del DAS Che si usa a scuola E soprattutto La cosa più bella Di tutte È che non sporca Non unge E non lascia Pezzettini di pasta No La cosa bellissima Di questo È che non attacca Sto Navigando in internet Poi ho trovato Un oggetto Che io ho rinominato Coso Per allenare le dita Perché è Effettivamente Un coso Per allenare le dita È praticamente Un sistema Di molle E pulsanti Che serve Non solo Per allenare Il braccio Ma anche Se magari Non lo so State studiando chitarra Serve appunto A mantenervi In allenamento Attenzione A non stringere Troppo le molle Che poi Ti viene il nervoso Perché non riuscite A schiacciare I pulsanti Una delle cose Che preferisco Essendo io Una super amante Dei grattini È il classico Grattatesta Il momento migliore Per utilizzarlo È quando siete a casa E obbligate qualcuno A farlo su di voi Ovviamente Se siete senza pudore Potete portarvelo In borsa Iniziare a grattarvi Magari in aereo O in treno Però Aspettatevi Degli sguardi strani Da parte degli altri Passeggeri Che farò così bello Ultimo Ma non meno importante Quello che utilizzo io Per addormentarmi La sera spesso Sono le applicazioni Con i suoni rilassanti Che sono Un must Secondo me Specialmente Se avete da affrontare Dei voli lunghi Una che utilizzo io È questa che si chiama Relax Melodies E praticamente Potete scegliere Tra vari suoni Da attivare Tipo la pioggia Insomma Potete personalizzare I vostri suoni Rilassanti E così Godervi Un bel pisolino Perfetto Quindi i miei consigli Di oggi Finiscono qui Ovviamente Trovate tutti i link Qua sotto In descrizione Fatemi sapere Qual è il vostro gadget O metodo Antistress Perferito Con un bel commento E noi ci vediamo La prossima volta Cianee Che fai? E lo tagli per favore E lo tagli per favore E lo tagli per favore Grazie.